Quando l'auto è sempre la stessa non vediamo l'ora di modificarla, facendo ricorso al tuning, termine che definisce le auto elaborate attraverso una serie di modifiche. Non è una moda attuale perché da sempre si è cercato di dare una nuova vita e nuove sembianze alla propria auto, forse per sconfiggere la monotonia, ma ammetto che alcuni esagerano con elaborazioni che la distaccano dalle sue origini, facendola diventare quasi una propria invenzione. È il caso di alcuni modelli che vi mostrerò in queste immagini, dove i proprietari forse hanno esagerato un po', ma vi lascio alle immagini. Grazie a tutti! 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 Un saluto da Ubaldo Schiavone e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!